se io penso appunto diciamo al cinema in senso lato perché poi stiamo parlando di cinema commerciale cinema mainstream insomma a un prodotto che è un prodotto artistico audiovisivo la fruizione di questo prodotto che una parola molto brutta però usiamo lo stesso deve avvenire comunque in un contesto cioè avviene o in un contesto individuale sempre di più perché non si vede le cose da solo oppure si va al cinema si vedono le cose eccetera quello che che manca da anni è un luogo che possa essere un cinema dove non solo hai ogni tanto l'incontro con il regista ma dove ci sia anche uno spazio dove se uno vuole appunto uno spazio dove socializzi Milano in questo senso è da anni ormai molto chiusa nel senso che i luoghi dove vedere delle cose diverse sono molto pochi parlando proprio di sale cinematografiche e poi Milano è fatta così cioè vai a vedere le cose al cinema e poi se non fa troppo freddo rimani fuori su marciapiedi in piedi a parlare però quanto puoi andare avanti cioè quanti pensieri quanto piacere puoi produrre diciamo in queste condizioni sempre così un po' punitive che è un po' però lo stile di questa città se io so che produco un documentario o un cortometraggio o quello che volete voi che per mille e un motivi so che non avrà che molto difficilmente avrà una distribuzione televisiva o cinematografica eccetera ma so che esiste una rete cioè so che esiste un degli esercenti alternativi diamogli il nome giusto io magari posso fare un accordo con quegli esercenti fin da subito no per cui dire ragazzi vi do il film ve lo do in anteprima ovviamente parlandone facendo ci state sì mi garantite 100 euro a proiezione sì quante proiezioni pensate di fare su una roba del genere 200 ok 100 per 200 quanto fa beh non diventi ricco però incominciano a essere delle scifre dove puoi cominciare a dire ok parto no ce la posso fare manca appunto un luogo che sia un luogo che sia anche cinema cioè cinema e però anche spazio dove magari uno può far vedere delle cose fuori formato o mettere in scena una lettura o altro io sono convinto che il problema della fruizione collettiva dei film è un problema determinante nel senso per me non è assolutamente pensabile fare dei film immaginando un auditorio singolo nel senso che la visione collettiva del cinema produce senso e trasforma il senso del film quindi l'idea di vedere il film nel proprio computer nel proprio televisore sia pure un'ampia diffusione a me non interessa per niente cioè io sono estremamente legato e estremamente convinto che la sala cinematografica sia il luogo dove il film assume un senso diverso e si trasforma questo percorso di fruizione collettiva che è stato sistematicamente distrutto in questi anni e che continua a essere distrutto perché la sparizione delle sali cinematografici delle città è una delle catastrofi culturali del nostro paese tra le peggiori ecco allora l'idea che si ricostruisca in maniera anche povera anche indipendente anche artigianale anche di bassa qualità che si ricostruisca la visione collettiva è per me determinante se ne parla da millenni di trovare una forma di distribuzione indipendente cioè l'unio indipendente scusate alternativa non si è mai riuscito non so se qui non si è mai riuscito da una parte perché non c'è stata la volontà politica da una parte forse perché noi produttori che siamo quelli più interessati alla distribuzione forse non ci siamo mai messi sul serio a provare a mettere cioè per assurdo dovremmo essere noi che mettiamo in piedi un circuito del genere cioè dovremmo essere noi non tanto a metterlo in piedi ma a stimolare a farlo quindi Grazie a tutti.